E' crollato a terra a pochi passi da casa, due colpi di pistola che hanno squarciato il silenzio di questa zona residenziale. Lui ha sentito gli spari, però non l'ha sentito, aiuto, aiuto, ma una signora è scesa e allora noi altri non avevamo gambe, tesoro, e allora non potevamo neanche dargli aiuto. Ma che ora era, più o meno? Che ora era? Sette. Sette perché mi ero in bagno e gli era su che gli erano dato la pancia. Sono sette così. Io ho sentito gli spari, gli spari, gli spari e dopo aiuto, 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 si è buttato su a me, su a me, gli erano. Sotto sciocchi i due anziani che abitano di fronte al luogo dove è venuta la sparatoria. È accaduto alle sette del mattino. L'uomo, 37 anni di origini kosovare, scende dalle scale della sua abitazione per andare a prendere l'auto parcheggiata lì vicino e recarsi al lavoro in un'azienda di 90 di Piave. Pochi istanti la vittima esce dal cancello, percorre una cinquantina di metri alle sue spalle due malviventi in scooter. Volti travisati da caschi integrali, giubbotti scuri. Uno ha in mano una pistola piccolo calibro, passano accanto al 37enne e fanno fuoco. Due colpi sparati, uno lo raggiunge alla coscia, il proiettile entra ed esce. L'altro, potenzialmente mortale, lo attinge al fianco raggiungendo l'addome. Sono attimi di terrore. Il kosovaro fugge verso casa e crolla vicino a questo cartello stradale in una pozza di sangue. Un agguato in piena regola. È la tecnica utilizzata dalla criminalità organizzata, ha detto il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani. Indagini a 360 gradi da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso. Sul posto è stato rinvenuto uno dei due bossoli, la zona transennata, le prove repertate. Ad accorrere per prima la moglie, che lo ha coperto con un piumino in attesa dei soccorsi, l'uomo è stato elitrasportato in ospedale a Treviso e subito sottoposto ad un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Solo lui potrà far luce su questa inquietante vicenda. Fra le ipotesi, quello di un giro di droga, di soldi o un prestito non restituito. Tutto al vaglio degli investigatori. Effettuati accertamenti anche nella casa della vittima, da dove i carabinieri sono usciti con un sacchettino, con degli indumenti e sulla macchina. La moglie accompagnata a casa e poi in caserma. Il 37enne avrebbe piccoli precedenti con la giustizia.